Sabato 8 settembre alle 18, la libreria Feltrinelli in via Garibaldi a D'Arezzo, la presentazione del romanzo Sin Saba di Laura Becchattini alla presenza di relatori importanti come il tenore Luca Canonici, Valentina Vadi, consigliere regionale ed Enzo Broggi, giornalista e presidente del Coricom. Allora, di che cosa parla questo romanzo? È la prima opera? È la prima opera come romanzo, poi scrivo un po' per il teatro e un po' per i video. Parla praticamente di una storia di sentimenti, una storia di sentimenti alti, nobili, con la maiuscola di amore e di amicizia. L'amicizia è un po' particolare perché è un'amicizia importante fra due esseri completamente diversi, un essere umano che è Claudia, la protagonista del libro, e uno spirito che è vento, quindi spazio e tempo completamente lontani. E l'altra è una storia d'amore, una storia d'amore che racconta vento alla protagonista, avvenuta nel sud degli Stati Uniti d'America al tempo della schiavitù, fra due donne. Quindi è una storia d'amore impossibile, difficile, ma comunque malgrado le avversità vissuta fino in fondo. Quindi insomma, lasciamo la curiosità di capire come va a finire. Allora, sabato alle 18, alla libreria Feltrinelli, mandiamo l'invito a tutti. Sì, vi aspetto, grazie, ciao.